Può dire il suo nome? Dottoressa Abigail Tyler Da dove preferisce cominciare? Sono l'attrice Mila Jovovich e interpreto la dottoressa Abigail Tyler Questo film è una rappresentazione di eventi verificatisi nell'ottobre 2000 Ogni scena del film è suffragata da filmati d'archivio Alcune delle cose che vedrete sono davvero impressionanti Mi svegliavo quasi sempre nel cuore della notte Era qualcosa di insolito a svegliarla? In effetti sì, era un gufo alla mia finestra Un gufo? Con enormi occhi Un gufo bianco, stava lì a fissarmi L'aveva mai visto prima? Tommy? Quando ero bambino stava lì a fissarmi L'ho visto spesso? Ogni notte ultimamente Quattro, tre, due Mi parli del gufo, parli del gufo Non sembrava un gufo normale Non era un gufo Non era un gufo Quella voce parla sumero La lingua più antica nella storia dell'uomo In vari musei ci sono incisioni e sculture sumere di uomini in tuta spaziale e maschera a ossigeno E di razzi che sembrano la pollo Lei crede alle teorie sui rappimenti? Non intende rappimenti alieni Non avevo mai visto un simile terrore sul volto di un uomo Che cos'è? No, no A non sono scompassi più persone che in qualunque città dell'Alaska Devo farmelo uscire dalla testa Se ho piccato là dentro non riesco a pensare Scott Oh Dio Mi è andato subito a venire in fase Che ha visto? Lei era lì? Non lo so spiegare Qualcuno o qualcosa È entrato nella mia stanza E mi ha portato via Il quarto tipo Mi è andato subito a venire in fase Mi è andato subito a venire in fase